Un augurio vero dato col cuore qui da Roma e per far stare tanta gente serena e tranquilla. È un momentaggio per tutti. I duffi sono sempre gli stessi, l'altezza cambia leggermente, di 4 metri circa. Niente, è solo l'adattamento appunto, perché l'acqua è abbastanza torbida. Però l'unica fortuna è che è più morbida in entrata, perché essendo mobile. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.